In base al grafico qui sotto, quanti tra coloro che hanno risposto al sondaggio hanno il gruppo sanguigno 0 positivo e quanti hanno 0 negativo? Un grafico come questo, con le immagini, è uno dei tanti modi per rappresentare i dati e le figure rappresentano i dati. Qui ad esempio abbiamo la figura di una gocciolina di sangue e ci dicono che ciascuna gocciolina di sangue in questo grafico rappresenta 8 persone. Possiamo dire che è la scala di questo grafico. Ciascuna goccia vuol dire 8 persone. Ad esempio, quante persone hanno il gruppo A positivo? Sono 7 goccioline di sangue, ma ogni goccia rappresenta 8 persone. 7 per 8, quindi 56 persone hanno il gruppo A positivo. Ma rispondiamo alla domanda che ci hanno fatto. Quante persone hanno il gruppo 0 positivo? Questo è 0 e guardiamo 0 positivo. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gocce di sangue. 8 gocce, mettiamolo tra virgolette. E la scala è 8, scriviamolo meglio, 8 persone per ogni goccia. Se pensi a come funziona con le unità, le gocce si semplificano e vanno via. E 8 per 8 sono 64 persone. Al posto delle 8 goccioline avrebbero potuto scrivere il numero 64, perché 64 persone hanno il gruppo sanguigno 0 positivo. Ora guardiamo 0 negativo. Questo è il gruppo 0 e guardiamo 0 negativo. Abbiamo 1 goccia e 2 gocce. Sono 2 gocce moltiplicato 8 persone ogni goccia. Ogni goccia rappresenta 8 persone. E 2 per 8 fa 16 persone. Quindi 16 persone tra quelli che hanno risposto al sondaggio hanno il sangue 0 negativo, mentre 64 persone hanno il gruppo sanguigno 0 positivo.